Sono passati due anni e mezzo dal tuo ultimo incontro ufficiale. Cosa ti ha spinto a riprovarci? Mi sono accorto, l'avevo già capito, però che non avevo ancora lasciato il pugilato ufficialmente, non avevo mai appeso i guantoni e non c'è miglior cosa che farlo salendo sul rino. Ho fatto due anni e mezzo di pausa per riflettere sul mio futuro e per guardare avanti. Fortunatamente da maggio divento direttore tecnico delle Fiamme Oro e quindi voglio lasciare il pugilato sul rino. Questo è l'addio che lascio a Roma, ma il 29 aprile farò un altro addio a Milano dove tutto è partito. Io sono in Milano, ho iniziato lì e li voglio finire. Sarò l'addio al pugilato e penserò soltanto al mio gruppo sportivo cercando nuovi talenti che diventino un giorno ancora più forti di Roberto Campanelli.